Salve a tutti, oggi vi porto in giro in un quartiere di Tokyo sicuramente meno scintillante rispetto a quelli che vi faccio vedere di solito, infatti oggi sono a Nishi Tokyo, letteralmente Tokyo Ovest, che si trova a una mezz'oretta di treno più o meno da Shinjuku. Perché sono qua? Perché poi lo vedrete nei prossimi giorni, ma qua dietro c'è un ristorante dalla storia veramente interessante, di cui vi parlerò appunto in un video che vedrete nei prossimi giorni. Questo è il santuario di Higashi Fushiminari Taisha, cioè uno dei vari, circa mille sono, tutto il Giappone, dedicati al dio Inari, dio dell'abbondanza, del successo eccetera. Questo è uno di quei posti in cui ci sono tutti i tori in fila. Scrivete la musichina, preciso, sono le 5, senza guardare, adesso io so che sono le 5, questa è l'ora, questa musichina quando escono i bambini dalle scuole. In tutto il Giappone in questo momento c'è questa musichina, in tutto il Giappone. Ovunque vi troviate, in una zona residenziale, sentirete questa musica alle 17. Adesso facciamo questa passeggiata, vado verso la stazione, qui si chiama Yagisawa, che è nella linea Saebu Shinjuku Line. È una linea appunto che collega questa parte di Tokyo poi a Shinjuku. Adesso magari entro dentro una stradina più residenziale e vi faccio vedere anche proprio come sono le case tradizionali, in posti che probabilmente siete familiari se avete visto qualche anime, avete letto qualche manga, anche perché a questo si ispirano. Facciamo passare il Pullman prima che mi metta sotto. Queste sono le classiche strade in cui vi potete imbattere quando siete in zone silenziali in Giappone. Con questi appunto, tipo questi mattoni qua, oppure qui. E tutte le case hanno scritto il nome fuori, come ovviamente, con delle targhette che sostanzialmente sono un po' tutte simili. Ecco, vedete, questo qua è proprio il muro classico di una casa giapponese singola come questa, proprio un grande classicone. C'è una Tokyo in cui vive la maggior parte delle persone che non è appunto quella dei grandi grattacieli, delle illuminazioni, quindi sempre tutto aperto. E questa qua, guardate, qua c'è sto traliccio dell'alta tensione, gigantesco, è un po' in salita, quindi un po' diverso dal solito. Però sono tutte così le strade, vedete? Le mura, quelle che dicevo delle case, delle recensioni, sono tutte uguali. O così o in quel modo. Quando ero piccolo, no, che guardavo i cartoni animati tipo quelli, no, mi piacevano quelli di robot, però ovviamente non è che parlassero della vita in Giappone, però degli anime tipo dei cartoni animati, se preferite, come Oli e Benji, come Mila e Shiro, rappresentavano in realtà come queste qua. E io mi ricordo quando ero piccolo, la cosa che mi colpiva sempre era perché i giapponesi, dicevo, io leggevo appunto nei libri degli elementari, hanno, sapevo che avevano queste case piccole, e però Oli, gli Oli e Benji, quando torna la mamma, è capito, le porte era così, aprivano la porta, buttava dentro, lo buttava dentro la vasca. E io appunto pensavo, di questo c'hanno le case piccole, ma hanno una stanza che usano solo come vasca. Quando io invece nel bagno c'ho la vasca, il lavandino, il water, il bidet, e con loro c'hanno poco spazio ma usano solo la vasca, non capivo questa cosa. Adesso effettivamente capisco, no, lo furo, che in tutte le case, in qualsiasi casa vai, che sia un appartamentone, eccetera, è sempre così, c'è una stanza in cui c'è solamente la vasca e la doccia. E la doccia serve per lavarsi prima di entrare dentro la vasca. Per praticità, ovviamente, poi molti giapponesi comunque fanno la doccia al volo. E qui dietro di me, vedete, c'è un parcheggio delle biciclette. Vi dico una piccola curiosità sulle biciclette, ne sono tantissime dentro Tokyo, questo è uno di quelli normali, però ci sono anche quelli tecnologici in cui tu butti, butti, insomma, metti questa bicicletta in questa specie di ascensore e poi la riprendi. La curiosità che vi voglio raccontare sulle biciclette è qual è. Anche le biciclette in Giappone hanno un numero del telaio, quindi se volete comprare una bicicletta dovete dare un documento e il telaio di quella bicicletta sarà abbinato a voi. Questo non vuol dire che in Giappone non rubino le biciclette. E soprattutto che cosa succede? Che vi espone a prendere la multa. Si trovano un sacco, soprattutto intorno alle stazioni, facile trovare le multe sulle biciclette che parcheggiano in diviato di sosta. Quindi in Giappone c'è il diviato di sosta anche per le biciclette. Probabilmente c'è una legge anche nel resto del mondo, non lo so. Spesso nei video le persone mi commentano così, ma anche in Italia c'è, anche questo c'è. Ma io non è che faccio i video per fare i confronti con l'Italia. Io documento, tra virgolette, faccio vedere, mettiamola così perché il documento sembra un po' troppo, quello che vivo tutti i giorni qua, non quello che c'è in Giappone per fare il confronto con l'Italia. Non è che io faccio i video per fare i confronti con l'Italia, quindi non mi scrivete eh ma in Italia c'è, c'è in tono come per dire eh ma ci fai vedere l'acqua calda. Io non è che faccio vedere l'acqua calda, vi faccio vedere quello che vivo qua. Poi se in Italia c'è o non c'è, non è questo il punto. Io vi faccio vedere com'è la mia vita in Giappone. Poi ci sono vari negozi, qui dietro c'è il fruttivendolo. Qui vedete, comincia ad essere un pochino più standard e si riconosce dal fatto che ci sono i classici negozi da intorno alla stazione perché questa che ho qui davanti a me e adesso giro la macchina è la stazione, eccola qua, questa è la stazione di Yagisawa quindi ce l'abbiamo, Matsuya, Ciao che non so che cosa sia è l'immancabilissimo Family Mart con il treno che passa e il pullman, questo guardate il pullman va a Mitaka Mitaka è famoso per un motivo perché c'è il museo dello studio Ghibli che tanti di voi conosceranno perché Mitaka tra l'altro non è lontanissimo da qua, si trova qua vicino invece questa qua che è dietro di me è la polizia, il Koban cioè i piccoli posti di polizia che si trovano sempre, quasi sempre vicino alle stazioni i poliziotti in Giappone, soprattutto i Koban adesso si trovano spesso senza lavoro ma qualche anno fa il lavoro numero uno del Koban dei poliziotti dentro i Koban erano dare indicazioni quando non c'era Google Maps, eccetera era un grande classico andare a chiedere ai poliziotti indicazioni stradali in un paese in cui non ci sono gli indirizzi capite che era molto facile perdersi tuttora qualcuno si perde però insomma da quando ci sono i smartphone e Google Maps e similari e i navigatori insomma ci si perde sempre meno io sono arrivato alla stazione adesso prendo il treno sono arrivato alla stazione con l'orologio prendo il treno prima dal bagno e poi prendo il treno quindi grazie a tutti per aver visto questo video un video estemporaneo perché stavo tornando appunto verso la stazione e se vi piacciono dei video camminati in cui vi spiego e vi faccio vedere anche delle cose più insolite scrivetelo nei commenti al prossimo anno dal Giappone ciao ciao ciao